Un po' scontato come nascondiglio, eh? Ci hai messo ora e però provai. Eh, volevo darti un po' di soddisfazione. Comunque, bel posto. È il mio preferito. Qui ho imparato a nuotare. Eh, mi ricordo. Anch'io venivo qui a nuotare. Ho imparato qui. Ma... sei ancora arrabbiato? Abbastanza. E tu? Io mi sento come quei cosi all'una parte che vengono sballottolati a 300 all'ora. Lui com'è? Papà. Non me lo ricordo più. Non lo so più. So solo che... L'ho amato tanto. E se può valere qualcosa, lui non... Non sapeva di avere un figlio. Buon per lui. È tutto un gran casino, eh? È un enorme casino. Ma chi è la stronza? Non chiamarla così. Sì, no, comunque non è lei, è Domenico. Non è il momento. Secondo te come ci dobbiamo comportare da un'altra avanti? Eh, lo scopriremo io, mano a mano. E se non ci viene da comportarci come fratello e sorella? Beh, vorrei dire che lo faremo un po' a modo nostro. Ti posso fare una domanda? Sì. La tua mamma farete mai pace? Non lo so. Capisco. Dai, è ancora lungo. No, no, questa volta no. Pure tu non stai messa bene. Che significa? Che non ti sai decidere. E questa cosa ti fa soffrire. Ma che sei una capera? Fatti un po' gli affari tuoi, va. Ti capisco, lo sai. È terribile non sapere cosa fare. Guarda, dipendesse da me in questo momento non fare proprio niente. E invece bisogna prendere in mano la situazione. Non mi pare che lo stai facendo. Non ti pare, ma è così. Sai di cosa avrei voglia adesso, in questo momento? Ti ho una bella nuotata. Dai.